Lezione della guida del sentiero numero 119 15 novembre 1963 Movimento, coscienza, esperienza, piacere e senza della vita Saluti miei cari amici, Dio vi benedica tutti Benedetto sia questo sentiero di autorealizzazione e di scoperta di sé Tutti voi che vi sforzate seriamente di superare l'innata resistenza ad affrontare e cambiare in voi stessi ciò che non è reale e perciò distruttivo Comincerete a raccogliere i frutti di questo impegno Noterete una crescente consapevolezza di voi stessi, una crescente liberazione di forze ed energie vitali Stasera cercherò di collegare diversi punti di cui in passato abbiamo discusso separatamente Perché ancora vi mancava la comprensione interiore per vedere le connessioni Il progresso generale di questo gruppo mi permette ora di andare più in profondità E come sapete a un livello più profondo tutti gli aspetti cosmici e umani si uniscono Molto tempo fa ho tenuto una lezione sulla forza vitale Esaminandola ora, di nuovo, con la maggiore comprensione che avete acquisito La forza vitale è una corrente di energia che scorre liberamente, che è presente in tutto l'universo Ogni volta che è una struttura organizzata soddisfa determinate condizioni esistenziali Si sintetizza con la forza vitale che poi permea e le dona la vita di nuovo Essa è viva, si crea come un organismo vivente In precedenza abbiamo definito la vita da diversi punti di vista Però cerchiamo di essere molto semplici Ci sono tre elementi essenziali che determinano la vita Questi sono il movimento, la conoscenza e l'esperienza Come avrete notato da una serie di argomenti del passato Ma anche da altre osservazioni Ci sono molte triadi nelle strutture spirituali della vita Ogni aspetto della triade mette in armonia gli altri due Se in un organismo vivente prevale l'armonia La triade forma un insieme Un aspetto della triade si fonde con gli altri due Li bilancia, li combina armoniosamente Se un organismo vivente non è in armonia con le leggi universali Allora i tre fattori si oppongono l'un l'altro E lo stesso succede con questa triade Vediamo più da vicino il significato di ciascuno di questi tre aspetti Senza movimento non c'è vita Tutto ciò che vive deve essere in movimento Se non c'è più movimento è perché non c'è più vita L'intero universo è in movimento perché è vivo Questo principio si applica ugualmente a ogni aspetto dell'essere umano A livello fisico è facile osservarlo Quando i muscoli non vengono usati si atrofizzano Una parte del corpo fisico perde vita Anche a livello mentale e intellettuale questo si può vedere facilmente Chi non esercita il cervello nel pensare Cioè nel muoversi Ristagna mentalmente E perde la capacità stessa di pensare Il cervello si atrofizza Proprio come i muscoli di un corpo quando non si muovono Il pensiero è un movimento A livello emotivo il movimento è generalmente più difficile da osservare Se non si è su un percorso di esplorazione di sé Voi amici miei state prendendo coscienza della situazione interiore Della vostra vita emotiva E potete vedere come la repressione crei rigidità E la rigidità è l'opposto della vita Che è sempre flessibile Sempre in movimento Anche i sentimenti sono movimento Se i sentimenti vengono espressi o manipolati In modo tale da non poter funzionare secondo la propria armoniosa legge Essi si spengono Quindi per essere pienamente vivi In rapporto al movimento Tutti i livelli della personalità Devono continuare a muoversi In modo naturale e organico Crescere è movimento Come ho detto tante volte Senza crescita non c'è vita E poiché la crescita è un movimento Senza movimento non c'è vita Il movimento contiene la capacità di creare un contatto Esso comprende gli elementi della relazione Della comunicazione Dell'amore e della comprensione Il movimento mette in contatto con un altro essere L'unione è impensabile senza movimento Perché l'unione implica sempre andare oltre i propri confini Il secondo elemento della vita è la coscienza Ne abbiamo già discusso così ampiamente Che non c'è da dire molto di più al riguardo È del tutto evidente che un'entità è viva nella misura in cui è cosciente Ci sono comunque molti gradi di coscienza L'essere umano è la prima creatura della scala ascendente della vita A possedere l'autocoscienza La consapevolezza di sé in vari gradi Le persone come voi, amici miei Che seguono un percorso per accrescere la consapevolezza di sé Innalzano il proprio livello di coscienza Nella maniera più veloce possibile La cresciuta consapevolezza di sé stessi Aumenta necessariamente con la consapevolezza degli altri Dell'universo e della vita nel suo complesso La consapevolezza determina inoltre l'estensione e la direzione del movimento E lo regola in base alla realtà Il movimento senza coscienza è destinato a prendersi in canali sbagliati Esso può essere eccessivo Oppure può cedere all'apatia, alla stagnazione In questo percorso scoprirete spesso Come la vostra vita emotiva ristagni e vada fuori controllo La vostra coscienza regola tutto questo gradualmente E porta all'armonia nella vostra vita emotiva Spesso vengono trascurati sia il movimento fisico e quello mentale Ma ancora più spesso il movimento emotivo è essere dimenticato E persino la mancanza di attività fisica e mentale È dovuta troppo spesso al ristagno emotivo Lo sforzo per espandere la coscienza è in sé movimento D'altra parte, il movimento senza coscienza O un grado di coscienza limitato Impedisce il movimento armonioso di tutti i livelli della personalità Se per esempio il movimento e la coscienza Sono diretti esclusivamente verso l'esterno Se trascurate la comprensione di voi stessi Allora non ci potrà essere integrazione di tutti i livelli della personalità Il corpo e la mente possono svilupparsi Ma se il livello emotivo non è permeato di movimento e di coscienza Lo spirito ne soffre Le emozioni cieche di cui non si è coscienti Sono una conseguenza della mancanza di consapevolezza a livello emotivo Se il movimento della ricerca, del pensiero, del discernimento, del giudizio Non è diretto verso quelle aree emotive nascoste Allora il movimento delle emozioni è fuori equilibrio In parte può essere ciecamente selvaggio E manifestarsi per esempio in un'ostilità incontrollata In parte può paralizzare le migliori facoltà del corpo emotivo L'esperienza è il terzo grado della vita Il terzo fattore della triade Più intensa è l'esperienza Più armoniosa sarà l'interazione tra movimento e coscienza La superficialità è mancanza di esperienza Quando il corpo emotivo è paralizzato La capacità di sperimentare ne soffre Se i sentimenti sono distorti, orientati unilateralmente È perché voi interpretate male la realtà In breve, questo denota una consapevolezza erronea Una coscienza insufficiente La capacità di valutare bene un'esperienza determinata La possibilità di provare il massimo del piacere Il minimo del dolore Nel primo caso i sentimenti devono essere in movimento Nel secondo funzionare bene la coscienza Più alto è lo sviluppo complessivo di un'entità Maggiori sono la felicità Il piacere e i minori sono il dolore e la sofferenza Ciò è dovuto ad una valutazione corretta Ad una percezione realistica e ad un movimento libero Non ho scalcolato da paure, inibizioni e paralisi In breve, l'esperienza della felicità È il risultato di una combinazione armoniosa Di un movimento di coscienza ed esperienza L'esperienza contiene il principio del piacere La possibilità della completa beatitudine È contenuta nella forza vitale È il vostro desiderio innato di partecipare a questa esperienza Che non diventa possibile quando tutto il vostro organismo È in armonia con la realtà Quando non combattete più contro di essa E a causa delle incomprensioni Quando si raggiungono gli strati più profondi della psiche Diventa chiaro che gli istinti grezi e primordiali Sono diretti solo all'esperienza del piacere Dietro la sovrastruttura di norme morali Leggi e regolamenti Si cela il desiderio del massimo piacere A tutti i costi A prescindere dalle conseguenze In una creatura immatura Il principio del piacere vorrebbe funzionare Ma l'insufficiente consapevolezza Crea una discrepanza Tra la capacità di podere del piacere E il suo ambiente Di conseguenza si verifica spesso Una situazione in cui La maturità intellettuale Ostacola il principio del piacere Che viene represso Quando la coscienza Non riesce a penetrare a questi livelli E quindi la capacità di provare piacere Non può svilupparsi E rimanere infantile ed egocentrica Se si manifesta È chiaramente distruttiva Se la sua espressione è vietata La distruttività intrinseca Non viene stradicata Ma si annida nel profondo dell'essere Mentre viene tenuta sotto controllo Così che diviene impossibile Provare un vero appagamento Ciò accade perché la conoscenza Non riesce a raggiungere Quegli strati nascosti Il movimento Che dovrebbe guidare La ricerca del piacere È tenuto sotto controllo In modo che il principio del piacere Non possa dispiegarsi Nella vita dell'individuo In questo modo La facoltà Permettano di fare esperienza Del massimo piacere Sono bloccate L'essere umano È predestinato A provare piacere Al massimo grado Ma quando provate piacere A spese degli altri O di voi stessi Non ci può essere Un equilibrio armonico Tra tre elementi della vita Fare del male a se stessi È il risultato Di ingiustificati sensi di colpa E alla fine Danneggia anche gli altri Uno dei fattori più dannosi Nello sviluppo generale Della personalità umana È un'influenza Di pregiudizi Di concetti erronei Profondamente radicali Questo mondo È così pieno Di fatti generalmente accettati Che anche gli spiriti Più illuminati E indipendenti Accettano ciecamente Certi postulati Sul perché Determinate cose Dovrebbero essere Giuste e buone E altre Sbagliate E cattive L'idea Che sia sbagliato Che l'essere umano Sviluppi liberamente La capacità Di esprimere La veritudine universale Si combina Con le paure personali E le esperienze negative In modo tale Che la personalità Può rimanere paralizzata Per molte incarnazioni Fino a quando Non ha il coraggio Di liberarsi Pieno di vergogna E spaventato Dalle sue Istintive tendenze Che incontrano Disapprovazione L'essere umano Non riesce A farle maturare In modo da poterle Integrare Di conseguenza Molte persone Si sviluppano In modo sbilanciato Più questo sviluppo Avviene In un'unica direzione Mentre le altre Parti della personalità Non vengono toccate Più gravi saranno Le crisi E i conflitti Che la personalità Si troverà A sperimentare I tabù sociali Nei confronti Delle forze Erotiche E sessuali Contenuti Nella forza vitale Hanno portato L'essere umano A un eccessivo Sviluppo Intellettuale E tecnico Rispetto Alla sua capacità Di amare La forza Dell'amore Può Non può Crescere Se è arbitrariamente Separata Dalle forze Erotiche E sessuali Insieme Formano Un unico Flusso Se la conoscenza Umana Veglia timorosa Su ogni flusso Di sentimento E ansiosamente Taglia fuori Da questo flusso Vitale Tutto ciò Che pensa Sia sbagliato Allora la capacità Di amare Dovrà soffrirne Questo Non si riferisce Solo all'amore Tra i sessi Ma all'amore Tra umano Umore umano A tutti i livelli La grande forza Spirituale Dell'amore Non conosce Divisioni Ed è impossibile Farla crescere Se si vigila Continuamente Su di essa Per tirar via Ciò che si pensa Di sbagliato È come Cercare Di suonare Una sinfonia Senza alcune note Essenziali Quando iniziate A esercitarvi Con la musica All'inizio Alcune note Potranno suonare Estonate Ma dopo Una sufficiente pratica Suoneranno In modo armonico E contribuiranno Ad uno splendido Insieme Un concetto Erroneo Che esiste Da molto tempo E che è scomparso Solo negli ultimi 50 anni Era la idea Che i bambini Non provassero Piacere erotico O sessuale La verità È che i bambini Provano Un piacere fisico Molto più forte Rispetto all'adulto Il bambino Non è appesentito Da sensi di corpo E dalla vergogna E da altre convinzioni Errate Di conseguenza Egli Sperimenta Le sue tendenze Istintive Molto più Intensamente Tuttavia L'esperienza Del principio Del piacere Non è ancora Sviluppata Ed è naturalmente Focalizzata Tutta sul sé Il che Non la rende Sbagliata E peccaminosa Questo Perché La conoscenza E il movimento Non sono ancora Attivati Così Nei primi anni Di infanzia Il senso del piacere È rivolto Principalmente All'ambiente circostante Cioè Ai genitori Questo fenomeno È del tutto naturale E solo le concezioni Erronee Dell'essere umano Lo hanno bollato Come sbagliato Tale pregiudizio Trapondato Di generazione In generazione Blocca Lo sviluppo naturale Dell'individuo La paura Della perversione Della musessualità E dell'incesto Hanno ruolo In tutto questo Un bambino Non conosce Tali conflitti I suoi istinti Sessuali Germogliano Senza considerare Tali idee e concetti Se il senso di corpo E il senso del peccato Non spingono Questi istinti Sottoterra Se la persona In crescita Coltiva Con la Consapevolezza Mentale Spirituale L'intera personalità Umana Si sviluppa Armoniosamente Allora L'impulso sessuale Cambia E subisce Lo stesso processo Dello sviluppo Umano Generale Più una persona Cresce Più si espande Prima da se stesso Al suo ambiente Immediato E poi Pian piano Fino al mondo esterno Alla cerchia familiare Nella prima adolescenza Il bambino E la bambina Sono più occupati Con i compagni Del loro stesso sesso Intellettualmente Mentalmente Ed emotivamente E anche Sessualmente I compagni Dello stesso sesso Sono un'estensione Di se stessi E del genitore Dello stesso sesso Ma nel corso Dell'ulteriore Processo di crescita L'adolescente Raggiunge Un altro sesso Una aperta Perversione Non viene impedita Dalla paura Del peccato Ma l'intero Organismo umano Che matura E cresce Oltre se stesso La paura Di una perversione Peccaminosa Tende solo a spingere Verso l'interno Degli istinti Non sviluppati Così Come succede Per ogni altro Genere Di reazione Umana Quando un essere umano Si vergogna Dell'odi E dell'ostilità Dell'invidia E della vendetta Queste tendenze Si insinuano Anche nell'inconscio Si può superare Queste emozioni Solo se si impara Ad affrontarle A comprendere L'origine E il motivo Se non lo fate Può sembrare Da fuori Che non abbiate Tali sentimenti Mentre tuttavia Voi li nutrite Essi si manifesteranno Indirettamente Attraverso Una paralisi Generale Delle creatività E dell'appagamento E Oltre che Della capacità Di avere Relazioni Significative E gratificanti Con le sensazioni Sessuali Proibite E immature E' esattamente La stessa cosa Anche se devono Essere affrontate Devono essere Vissute Di nuovo Bisogna farci I conti Se si vuole Che la personalità Cresca Armoniosamente E si realizzi Questi sentimenti Proibiti Si trovano Spesso Su uno strato Sottostante All'odio E al risentimento L'ostilità E le altre emozioni Negative Sono già Difficili Da affrontare Perché contraddicono L'immagine Idealizzata Di sé E creano Disapprovazione E rifiuto Spesso Sono anche Più accettabili Dei sentimenti Piacevoli Che si provano Nei confronti Della propria Famiglia Per questo motivo Tali sentimenti Piacevoli Sono tenuti Ancora di più Sotto chiave Dell'odio Spesso L'odio E' artificialmente Alimentato Come antidoto Al piacere Proibito E la repressione Dell'odio E della rabbia Avviene solo Successivamente Questo indica La necessità Che l'intero processo Svolga Lo strato Dopo strato Fino a raggiungere Questa zona Primitiva Solo così La personalità Può crescere Organicamente E dispiegarsi Nel suo pieno Splendore Ogni volta Che un'attività Della vita Per quanto Sia utile Produttiva O creativa Sembra ostacolare Lo sviluppo Della vostra Profondità emotiva Nello sperimentare Il piacere Il vostro essere Interiore E' fuori Equilibrio In una personalità Equilibrata Integrata E piena Un'attività Valorizzerà L'altra L'impegno Creativo Non soffre mai Della piena Esperienza E della forza vitale Di tutti i suoi aspetti Anzi Il contrario Prima che i pregiudizi E la paura E le convinzioni Errate Comincino a rallentare In un bambino Il flusso naturale Della forza vitale E gli sperimenta L'energia del piacere In modo molto forte Nell'infanzia Ogni esperienza E' influenzata Dal principio Del piacere Questo principio Pervade Ogni attività Del bambino La natura Dell'esperienza E' lo stato Psicologico Con cui il bambino Nasce Influenzano Di conseguenza Il suo atteggiamento Verso il piacere Quindi Quando il bambino Viene accarezzato Nutrito E amato Prova un intenso Piacere fisico A contatto Con l'ambiente Circostante Se lo sviluppo Procede in modo naturale Come ho detto prima Allora Il movimento Di espansione Indurrà L'entità Di indirizzarsi Di indirizzare L'impulso Del piacere Fuori di sé Verso L'ambiente familiare Verso Il mondo esterno E poi Verso Il sesso opposto Come discusso In una precedente lezione Questo movimento Richiede L'interazione Di amore Eros E sessualità Che a sua volta È una conseguenza Di un corrispondente Sviluppo Del movimento E della coscienza E della capacità Di fare esperienza Tuttavia Questa integrazione Non avviene Quando sono presenti I tabù Paure E un distacco artificiale Delle pulsioni Istintive La presenza Di queste condizioni Inibisce Lo sviluppo naturale Man mano Che si matura In tal senso L'unione Perfetta Tra due individui Del stesso opposto Diventa possibile Oltre all'incommisorabile Beatitudine Di questa esperienza L'unione permette Ai due individui Di funzionare Incomparabilmente meglio Rispetto a ogni altro Aspetto Della vita Un'unione Così sana Non esclude Attività produttive E relazioni gratificanti Con gli altri Al contrario Quanto più una persona È integrata E quindi Capace di vivere Il suo destino Cioè La felicità assoluta Della forza vitale Tanto più Ne rende Partecipi Anche gli altri In modo Dell'esperienza Si espande In ogni esperienza È perfetta Della sua unicità Inutile dire Che questa esperienza Allargata Non significa Promiscuità Quanto più Un individuo Si espande Integrando Tutte le sue Facoltà In un insieme Armonioso Tanto più Realizza Il suo destino Spirituale Al di là Della sfera Dell'umano Questa espansione È infinitivamente Estesa Ma ciò Supera La capacità Di comprensione Il concetto Di unione Spirituale Suona piuttosto Teorico Per gli esseri Umani Ma a questo Punto Si può dire Che non c'è Una separazione Arbitraria Tra i vari aspetti Del grande Flusso vitale Che contengono I principi Del piacere La vita Terrena È una preparazione Per questo Piacere Supremo E quindi Estremamente Importante Rimuovere I punti Problematici All'interno Della psiche Queste aree Problematiche Indicano Che La pulsione Del piacere Si è bloccata In relazione Ad esperienze Negative Piacevoli A causa Della paura Del senso Di colpa A causa Di concetti Erronei E dell'incapacità Di elaborare Correttamente Le esperienze Questo blocco Negativo Della spinta Del piacere Può assumere Due forme Estreme Con molte Sfumature Diverse Nel mezzo Ad un estremo Ci sono Le regole Sovreimposte I tabù E i falsi Sensi di colpa Che causano Rabbia E ribellione Questi sentimenti Sono il risultato Di una lotta Contro ciò Che si accetta Solo in parte Non indicano Una vera libertà La quale proviene Solo dalla consapevolezza E dalla comprensione All'esterno La ribellione Può manifestarsi Nel vivere Di istinti privati Grezi E non solo Sviluppati Con uno spirito Provocatorio Oppure si può Covare La paura E il senso Di colpa Impedendo di conseguenza La crescita organica Gli istinti Rimangono bloccati Nel primitivo Stato infantile E quello Che a quel tempo Era naturale Organico Diviene più tardi Distruttivo All'altro estremo Il senso di colpa E la paura Impediscono Lo sviluppo Dell'esperienza Del piacere E all'anima Viene proibito Questo aspetto Dello sviluppo L'anima Si sente frustrata E prova Un gran vuoto In quanto Il profondo Desiderio Di felicità Non solo Non è sbagliato In realtà Ma è un elemento Spirituale Si forma Un eccesso Di comprensione E un'errata Canalizzazione Fino a quando Finalmente L'anima Segue il suo destino E porta Tutte le sue Facoltà In un processo Di crescita Di solito Questi due Estremi Ci sono Delle fasi Manifeste Inconce Tanto Che la personalità Combatte ciecamente Contro gli entrambi Estremi Oscillando Senza arrivare mai All'illuminazione E alla liberazione Pertanto A questo proposito È essenziale Che tutti coloro Che sono sul sentiero Esplorino I loro sentimenti Primogenei Ancora intatti Bisogna tirarli fuori Dalla clandestinità E osservarli In relazione Alle esperienze personali E alle circostanze Della prima infanzia Spesso Si sostiene Che il piacere Per il piacere È sbagliato La verità È esattamente L'opposto Quando la personalità Si sviluppa Armoniosamente L'impulso del piacere Include gli altri Nel dare E nel ricevere E così Dovrebbe essere Una persona matura Il piacere Non è esclusivo Ed egocentrico Di conseguenza Non può essere antisociale Questo impulso È invece Antisociale Ad escludere Gli altri Solo quando Un individuo Vive il suo impulso Sessuale Nel modo Che sarebbe Normale Per un bambino Un bambino Non è sociale Ma concentrato Su se stesso E quindi Esclude gli altri Le emozioni Che rimangono Più o meno Bloccate Allo stadio infantile Più che Immorali Sono indicative Del ritardo Nello sviluppo Complessivo Sovente Una persona Immatura Usa La spinta Al piacere Per soddisfare Altri bisogni Per esempio Per rafforzare Il proprio io Per diminuire I sentimenti Di inferiorità Per sentirsi Desiderata Benvenuta Perché in realtà Non si sente Insicura E indifesa Spesso L'aggressività E l'ostilità Vengono assorbite Dalla pulsione Del piacere E si manifestano Senza che la persona Ne sia consapevole Della pulsione Sessuale In questo caso Si può giustamente Parlare Di perversione Allorché Il principio Del piacere Viene usato Per qualcosa Di diverso Dalla sua Vera funzione Il suo principio Dovrebbe essere Portato a termine Attraverso Una maggiore Consapevolezza Di sé Tramite il superamento Delle emozioni Problematiche Il piacere Diventa Almeno in parte Un sostituto Della crescita emotiva E della consapevolezza Dovrete trovare Gli intrecci Tra senso di colpa Repressione E paura Tra brocchi Del principio E del piacere Nella prima infanzia E la mancanza Di uno sviluppo organico Di tale principio E le conseguenze Che questa mancanza Di crescita Ha sulla vostra stessa vita E sulle vostre relazioni Potete scoprire Questa correlazione Solo guardando Nel profondo Dei vostri sentimenti Originali Nascosti In relazione All'ambiente E della vostra Prima infanzia Non è facile E non si può fare Tutto in una volta La vostra psiche Deve rilassarsi Nelle prime fasi Del lavoro Del sentiero In modo che sia Possibile Rivivere Queste prime emozioni Questo può essere fatto Se non resistete A dare sforzo La ricompensa Per la liberazione Che ne è derivata E al di là Di ogni immaginazione Finché la personalità È inconsciamente Attaccata Alle esperienze Passate L'anima Non è in grado Di crescere E di espambere La sua esperienza Non potete lasciare Andare questi blocchi Se la vostra Consapevolezza Non entra Nelle zone Finora chiuse Sia Solo allora Potete affrontare Quelle prime esperienze Che non sono state Adeguatamente assimilate E che la vostra psiche È ora pronta A raggiungere davvero Essere bloccati Significa Mancanza di movimento E quindi Mancanza di crescita Questo implica Mancanza di coscienza Perché Quando c'è Coscienza Si può avere Una giusta comprensione Attraverso la quale Il movimento Della forza vitale Può risolvere Il blocco Allora L'esperienza Potrebbe avvenire Al livello Per il quale L'individuo È potenzialmente Pronto Dove Il movimento La coscienza L'esperienza Funzionano In armonia L'individuo A parte Qualche occasione Occasionale Difficoltà esterna È soddisfatto Ed essenzialmente Felice In questo caso L'amore L'eros E la sessualità Divengono Un'unica Forza E non c'è Un conflitto Tra la mente Le emozioni E il centro Spirituale Esaminiamo Queste sensazioni Di piacere Vengono Di questi sentimenti Ma il senso Di colpa L'odio 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 Si ricoprirà Di un amore Finto Sterile E falso L'odio Non deriva Quindi solo Dal rifiuto E dal dolore Ma anche Da quello Che sembra Essere Un amore Proibito Nel lavoro Su questo sentiero È diventato Sempre più chiaro Che continuate A rapportarvi Ai vostri genitori In tutte le altre relazioni Soprattutto Nel rapporto Con il vostro Compagno Compagno Più le emozioni Sono bloccate Più indicano Che vi sono coinvolte Emozioni Molto forti E sono proprio Le emozioni forti Ad essere legate Al principio Del piacere Se si guarda Ad una serie Di lezioni Precedenti In particolare Quella Sull'influenza Dei genitori E sui modelli Comportamentali Che si sono sviluppati Nel rapporto Con i genitori Si otterrà Una visione Molto più profonda E questa visione Vi permetterà Di rivivere Ciò che vi Mantiene Rigidi Ciò che vi Sta trattenendo Dalla vostra Piena crescita Organica Non abbiate Paura Di affrontare Queste emozioni Incoraggiatele Non avete Nulla da temere Nel affrontarle Al contrario Siate vigili Amici miei E vi renderete Veramente liberi Prestate particolare Attenzione E quando le vostre Emozioni Sembreranno Problematiche Perché provate O troppa Ceca ammirazione O troppo risentimento Più di quanto L'occasione Possa giustificare Queste reazioni Eccessive Indicano Che non avete Accettato Le fasi Naturali Del vostro Sviluppo Passato Quando il Desiderio Erotico Dell'infanzia È stato Soddisfatto In una certa Misura Per esempio Perché uno Dei vostri Tenitori Era espansivo E affettuoso Verso di voi Questo Non garantisce Necessariamente Uno sviluppo Ulteriore Ogni volta Che il senso Di colpa È troppo Forte L'individuo È incapace Di affrontare Quell'esperienza In modo Adeguato L'esperienza Non risolta Si manifesterà In seguito Nella lotta Contro l'amore La realizzazione erotica O sessuale D'altra parte Se il bambino Non ha ottenuto La soddisfazione Che desidera Si convince In seguito Che il suo desiderio Era sbagliato Una volta L'adulto Una volta Adulto Combatterà Contro queste emozioni Il sano desiderio Dell'anima Può occasionalmente Contrastare Questo conflitto Ma il desiderio È sempre diluito Dall'esperienza Originale Non assimilata Si potrebbe pensare Che solo L'esperienza Del piacere Durante l'infanzia Si è in grado Di attivare La forza erotica E sessuale Nella persona Che sta crescendo Spesso però L'esperienza dolorosa Si fonde Con la pulsione Del piacere E fissa Il piacere erotico E sessuale A questa esperienza Riconoscere questo È molto importante La paura E il dolore Sono l'essenza Di tutte le esperienze Negative Spesso Accade Che un essere umano Funzioni eroticamente O sessualmente Solo in relazione Alla paura E al dolore E se queste emozioni Non sono presenti In anticipo Sono presenti Il principio del piacere Non riesce a manifestarsi Non potrò mai Sottolineare abbastanza Quanto sia importante Esaminare queste aree Del piacere negativo E collegarle Alle circostanze Dell'infanzia Che hanno causato La paura E il dolore Allora potrete Allora potrete trovare Quel brocco In modo Molto diretto E senza tanti giri È chiaro Che finché Qualcuno È bloccato Nel piacere erotico E sessuale Negativo Gli è impossibile Mantenere una relazione Ricca e stimolante Una relazione del genere Non può che finire Ed è per questo Che la persona Non riesce mai A vivere Ciò che la sua anima Così tanto desidera Tuttavia Questo fattore Non è così negativo Come sembra Perché Il bambino Riesce ad alleviare Il dolore Permettendo Il principio del piacere Di influire Su un'esperienza dolorosa Che altrimenti Sarebbe insopportabile Per l'io non sviluppato Del bambino Se un'esperienza dolorosa È erotizzata O sessualizzata Permette all'individuo Di fare un'esperienza Limitata Della forza vitale Rivitalizzante Che è comunque Meglio Dell'alternativa E di contrastare Del tutto La spinta Al piacere Nella maggior parte Dei casi La persona Inconsciamente Usa entrambe Queste alternative Per affrontare Le esperienze dolorose È estremamente Necessario Dissolvere Tutti questi blocchi È liberare Così La forza vitale La frustrazione La mancanza Di appagamento Il disprezzo Verso Se stessi È il senso Di colpa La malattia È la mancanza Di energia È di creatività Insomma Ogni aspetto Negativo Della creazione Dovrà essere Collegato In ultima Analisi A questo aspetto Dello sviluppo Umano Dentro la psiche Di ogni essere Umano Vive Il bambino Di una volta E questo esempio Di bambino Risponde E reagisce Come una volta L'unica cosa Di cui si preoccupa È il semplice Desiderio Di provare piacere Sia che lo abbia Conosciuto O meno I genitori Avevano il potere Di darglielo O di non darglielo La lotta Di base del bambino È quella Di raggiungere Il piacere Ed eliminare Tutto ciò Che lo ostacola Questa lotta Semplicemente primordiale Si rivolge Ancora In ogni individuo Di per sé Non è qualcosa Di peccaminoso Vergognoso O sbagliato La psiche Supera questo Stato primitivo La qualità L'enfasi E i risultati Della ricerca Del piacere Cambiano Un genitore Può aver dato Più piacere L'altro Più dolore E forse Entrambi i genitori Hanno dato Hanno dato Entrambe le cose In ogni caso Il piacere E il dolore Continuano A lottare Dentro di voi Fino a quando Non vengono portati Alla luce Della coscienza A questo punto La lotta Continua In modo completamente Diverso In modo sano E costruttivo Che conduce Pian piano La sua Maturità Spirituale Tutte le immagini E le pseudosoluzioni I concetti Erronei I conflitti Interiori Si originano Dalla lotta Del bambino Tra la ricerca Del piacere E l'evitamento Del dolore La fusione Infantile Del dolore E del piacere Come via D'uscita Non deve essere Confusa Con l'unità Tra piacere E dolore Che avviene Quando si supera La dualità Della vita Sulla terra Il primo È cieco Tentativo Di superare La dualità In quanto tale Non è Né reale Né produttivo Andando avanti Sul vostro cammino Amici miei Considerate Questa lezione Come parte Della precedente Lavorate Con entrambe Come se fossero Un'unica lezione E questo Renderà le cose Più facili Cercate di scoprire La segreta Paura Delle vostre emozioni Che deriva Dalla forte Separazione Che è L'umanità Fra L'effetto umano In generale E il flusso Sessuale Erotico In realtà Le due cose Non possono essere Così completamente Separate La paura Delle vostre emozioni Vi blocca E vi costringe A manipolare In modo sottile Ma evidente Erroneamente Temete che I vostri istinti Primordiali Non sviluppati Vi portino Fuori strada In realtà Divenendo Sempre più Consapevoli Di queste pulsazioni Istintive Non fate altro Che Sintonizzarle Sullo sviluppo Che avete già raggiunto Non Fraintendete Le mie parole Amici miei Non vi richiedo Di agire I vostri istinti Infantili Quello che voglio dire È che tutti i bambini Hanno questi istinti E in una certa misura Esistono ancora In ognuno di voi Fino a quando Non li affrontate Veramente In modo Da potervi liberare Della vostra Prigione Autoimposta Se affrontate Queste emozioni Primordiali Finora nascoste Imparate Ad accettarle E superare L'irragionevole paura E la vergogna Di farlo Ve le liberate E vi spingete Oltre Allora potrete davvero Riuscire A relazionarvi Con gli altri La persona Che conoscete Non servirà più A sostituire Il genitore originario Che state cercando Quindi Non solo Sperimentate Una nuova pienezza Di vita Di gioia Ma anche La vostra Operosità Raggiungerà Nuove vette Perché sarete Condotti Dalla pace E dall'armonia La tensione La frustrazione L'irritazione Queste antiche compagne Che sono il risultato Di istinti Di cui non riuscite Ad accettare La presenza Che cercate di evitare E che vi fanno paura Lasceranno finalmente La vostra psiche Mi azzardo a dire Che ognuno di voi Almeno in una certa misura Scoprirà Che la reazione erotica Avviene solo In presenza Di almeno Un minimo Elemento Di rifiuto Di paura Di insicurezza O di dolore Quando queste Emozioni negative Sono completamente Assenti La risposta erotica Potrebbe essere Anch'essa Assente E' spesso Del tutto Impossibile Creare La giusta atmosfera In cui Poter funzionare Eroticamente E perché Non è neanche possibile Un rifiuto completo Anche se Non sentite più Il bisogno O il desiderio Di avere una relazione Appagante Probabilmente Perché Gli standard terreni Avete già raggiunto Un'elevata Ripeto Avete già raggiunto Un'età avanzata Avete dissolto I vostri blocchi In questo ambito E affrontato Le circostanze Delle infanzie E' ugualmente importante Che la forza vitale Possa fluire E ispirarvi di nuovo In altri settori Della vita Quando non riuscite A sciogliere I blocchi Trattenete Anche l'energia vitale E questo Ha delle conseguenze Più vi liberate Da paure cieche E irrealistiche Senzi di colpa E concetti Erronei Più siete in grado Di scegliere liberamente Usando la vostra Consapevolezza Acuta E realistica Piuttosto che Lasciarvi costringere In schemi Comportamentali Fissi Andare con il flusso Della vita Non può che essere positivo Sognate Sotto ogni altro Aspetto possibile Se vi ponete Per le cecità Ignoranza Testardaggine E paura E' inevitabile Che si creano Ostacoli E situazioni Difficili Dove meno Li desiderate Mentre fate i conti Con la fusione Di piacere E dolore Perché non siete in grado Di assimilare La vostra esperienza Dolorosa In un altro modo Noterete Che da un lato Finché questa condizione Prevale in voi Vi state inutilmente E tragicamente Ingannando Se affrontaste realmente Questa situazione Potreste cambiarla Dando a voi E agli altri Un'immensa felicità D'altra parte E' anche importante Vedere La situazione In una prospettiva Più ampia Anche se La fusione Di piacere E dolore Nella psiche conflittuale Di una persona Può essere chiamata Perversione O masochismo E' comunque in sé Una benedizione La forza vitale Deve infatti Entrare In aree distorte Anche se Costretta A manifestarsi In modo errato E deviato Fino a quando Non si esce Dal conflitto Altrimenti Si diventa Sempre più Incapaci Deboli E svuotati In tutti gli altri Ambiti Della propria vita Ciò Significherebbe Che l'individuo Non avrebbe mai La possibilità Di crescere E non potrebbe Mai sentire Nessun tipo Di piacere Pensate Alle persone Che non Tragono Alcuna gioia Dalla vita Sono sempre Quelle Che hanno Inavvertitamente Fermato Il flusso Della vita Gli esseri umani Spesso Si riferiscono Al flusso Della vita Come qualcosa Di negativo Soprattutto Perché Lo dividono Arbitrariamente In parti Accettabili E parti Non accettabili Perché Ne vedono La forma Primitiva Di espressione Come immutabile Piuttosto Che vederla Come una fase Transitoria Dovete Ripercorrere Le esperienze Dell'infanzia Riviverla E vederla Nella giusta luce Amici miei Molti di voi Sono ormai vicini Al punto Di poterlo fare Alcuni di voi Hanno già fatto Notevoli progressi Altre Invece Sono ancora Troppo bloccati E spaventati Ma anche loro Alla fine Troveranno il coraggio Di scoprire Che non hanno bisogno Di temere Questa fase Perché è Naturale Non c'è da vergognarsene È in linea Con lo sviluppo Universale Non so dirvi Quanto sarete Grati a voi stessi Per non essere Per non esservi Sottratti A questa parte Essenziale Dello sviluppo Tutti voi Avete sperimentato In passato Quanto vi siete sentiti Liberi E felici Ogni volta Che avete superato La vostra resistenza Ad andare Più in profondità Più forte Era la vostra lotta la resistenza Più profonda È stata La vostra intuizione Ed è più liberatorio Il risultato Questo Da questo punto di vista Non è mai diverso Amici miei Questa lezione Può essere interpretata Come materiale Psicologico Ma nulla È più lontano Della verità Anche se Negli ultimi 50 anni Da un punto di vista Puramente psicologico Sono state raggiunte Importanti conoscenze In quest'area Vale a dire Nei riguardi Della felicità personale In questa vita Ma Qui sto parlando Di qualcosa Che va ben oltre Qui si apre L'orizzonte L'orizzonte spirituale Anima ha un significato Se stessi Se stessi E stanno Raggiungere Quest'area Di cui parlo Non troveranno Le mie parole Ripetitive O impossibilità Capire Questa lezione Dovrebbe darvi Una grande quantità Di materiale Se davvero Proseguite Il vostro sviluppo Interiore Non solo Con gesti Esteriori Questo avrà Un effetto Duraturo Sulla vostra Psiche Sulla direzione Sulla ricerca E sullo sviluppo Dove essere Cibo per la mente Altrimenti Continuerete A temere Quella parte Di voi Che paralizza Le vostre Migliori Facoltà Fino a quando Non avete trovato Il coraggio E non vi sforzerete Di fare ciò Che il vostro Spirito Accetta Che voi Facciate Dato che Stasera Non c'è più Tempo Per le domande Vi darò Tutto il tempo Che volete Quando arriveremo All'incontro Che è stato Programmato Per questa lezione Risponderò A tutte le domande E discuterò Degli eventuali esempi E difficoltà Che mi porterete Vorrei concludere Questa lezione Dicendo che Quelli tra voi Che non si sottraggono A questo profondo Processo di crescita In questa vita Sono veramente Benedetti Davvero Potete rallegrarvi Non lasciatevi Scoraggiare Dalle crisi Che sono sempre Possibili Quando si ha Troppa paura Dell'affrontare Qualcosa Che si ritiene Difficile Da accettare Il bambino ignaro E inconsapevole Pensando Di doversi Nascondere Reagisce Energicamente Prima di essere Portato fuori Dal nascondimento Una volta raggiunto Quel punto di liberazione Cruciale Non avete più a che fare Con un po' Di sollievo Piccole intuizioni Ricadute successive Ripetizioni Del processo Questo passo Rappresenta Una crescita Sostanziale E significativa Del valore Dureturo Di impatto Siate benedetti Voi tutti Ricevete La vibrante Forza vitale Contenente Tutto ciò Che non può essere Valutato In termini Di giusto O sbagliato Di buono O cattivo È tutto Uno Siate in pace Siate in Dio Avete ascoltato La lezione Della guida Del sentiero Numero 119 Movimento Coscienza Esperienza Piacere Essenza Della vita Per ulteriori informazioni Visitate il sito web www.ibetecadelsentiero.org